Buongiorno cari amici, benvenuti dal vostro Andrea al Matematico. In questa lezione cominciamo la sezione in cui andiamo a commentare tutti gli esercizi di finanza partendo dagli esercizi della prima sezione, cioè del rendiconto finanziario. In questo esercizio abbiamo quindi calcola il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica della ZSPA nell'anno N, sapendo che qui abbiamo dei dati, abbiamo il reddito operativo lordo che è di 15.000, la variazione del capitale circolante netto operativo che è di meno 1.000, gli ammortamenti che sono di 5.000 e l'aliquota fiscale che è del 40%. Quindi in sostanza che cosa dobbiamo calcolare? Quindi il flusso di cassa dalla gestione caratteristica. Ricordando che il flusso di cassa dalla gestione caratteristica si calcola e qui andate a vedervi la teoria che ci sono dei video su YouTube perfettamente spiegati su questa sezione, quindi diamo per scontato tutte queste informazioni anche se le ripeteremo a livello molto sintetico. Il flusso di cassa dalla gestione caratteristica è dato dal flusso del capitale circolante netto operativo meno la variazione del capitale circolante netto operativo. Ora, praticamente in questo esercizio abbiamo l'aliquota fiscale che è TC. Quindi per arrivare al flusso del CCNO, lo chiameremo in questo modo, dovremo praticamente fare il mol netto imposte più lo scudo fiscale. Questo è il primo modo per poterlo calcolare. Quindi il mol netto imposte praticamente sono il mol che moltiplica 1-TC più i TC per ammortamento, oppure un altro modo per calcolare l'FCCNO è il roll netto imposte più l'ammortamento. Il roll netto imposte sarebbe il roll che moltiplica 1-TC a cui aggiungiamo gli ammortamenti. Quindi, inserendo tutto nella formula, abbiamo, siccome noi nei dati abbiamo il reddito operativo lordo che è di 15.000, quindi sfrutteremo il secondo modo di calcolo, quindi roll, cioè 15.000, che moltiplica 1- l'aliquota fiscale, quindi 1-0,40, più gli ammortamenti, quindi più i 5.000, e qui arriviamo all'FCCNO, meno la variazione del capitale circolante netto operativo, che in questo caso sarebbe appunto di meno 1.000, e arriviamo quindi ai nostri 15.000, 15.000 che sono appunto il flusso di cassa della gestione caratteristica. Vediamo il secondo esercizio. Quindi il MOL netto dell'anno N è risultato 500, vedete, quindi, scusate, il MOL, cioè il margine operativo lordo, è risultato di 500, quindi MOL uguale a 500. Le entrate generate dai ricavi operativi monetari sono stati di 3.600, vedete che vi ho messo praticamente entrate uguale a 3.600. i crediti commerciali sono diminuiti di 200, quindi variazione dei crediti uguale a meno 200. Calcolare le uscite prodotte dai costi operativi monetari, cioè dai COM, quindi uscite uguale a punto di domanda, sapendo che i debiti da essi generati sono aumentati di 100, quindi variazione dei debiti uguale a più 100. Quindi cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare le uscite prodotte dai COM. Vedete che qua vi ho riportato ancora gli stessi dati, quindi in questo caso come facciamo a calcolare questo esercizio, come facciamo a risolvere questo esercizio? Allora, prima di tutto ci sono tre formuline che noi dobbiamo ricordarci, quindi la prima è che il margine operativo lordo, cioè il MOL, sono i ricavi operativi monetari meno i costi operativi monetari, prima equazione, la chiameremo così. La seconda equazione riguarda le entrate, cioè le entrate monetarie sono i ROM, cioè i ricavi operativi monetari, meno la variazione dei crediti, chiameremo questa cosa equazione 2, mentre le uscite sono calcolate dai COM meno la variazione dei debiti. Quindi a questo punto dobbiamo chiederci cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare praticamente le uscite di tipo monetario. Che cosa conosciamo? Allora, conosciamo il MOL, vedete che ve l'ho segnato in verde, conosciamo le entrate, che ve l'ho segnato in blu, e conosciamo sia la variazione dei crediti che la variazione dei debiti. Quindi in questo caso, se guardiamo l'ultima formula, e noi dobbiamo calcolare le uscite monetarie, chiaramente ci servono soltanto i COM, perché la variazione dei debiti noi ce l'abbiamo. Quindi come facciamo a calcolare i COM? Chiaramente potremo guardare la prima equazione, dove i MOL sono i ROM meno i COM, però ci mancano tutti e due i dati, quindi conoscendo ad esempio i ROM potremmo ricavare i COM perché conosciamo anche il MOL. Se guardiamo la seconda equazione, di cui conosciamo due elementi, cioè conosciamo sia le entrate che la variazione dei crediti, da qui possiamo ricavare i ROM spostando a sinistra la variazione dei crediti che diventerà positiva. E quindi i ROM possiamo dire che sono le entrate più la variazione dei crediti. Quindi partendo dalla seconda equazione mi ricavo i ROM che sono le entrate più la variazione dei crediti, quindi inserisco i dati, quindi 3600 più meno 200, quindi meno 200 e arriviamo a 3400 di ROM. A questo punto conoscendo i ROM entriamo nell'equazione 1 dove tentiamo di ricavare i COM, quindi se spostiamo i COM a sinistra diventano positivi e il MOL a destra diventa negativo, possiamo andare a scrivere che i COM, cioè i costi operativi monetari, sono i ROM a cui sottraggo il MOL. I ROM li abbiamo ricavati prima che sono di 3400, andiamo a sottrarre il MOL che è di 500 e quindi arriviamo ai COM che sono di 2900. Adesso entriamo nell'ultima equazione in cui cerchiamo quindi di ricavare le uscite monetarie che sono i COM meno la variazione dei debiti, i COM li abbiamo appena ricavati che sono di 2900, meno la variazione dei debiti, quindi meno 100 perché la variazione dei debiti era più 100, quindi meno 100 e arriviamo quindi a 2800 che sono le nostre uscite causate dai costi operativi monetari. Prendiamo il terzo esercizio. Nell'anno N il MOL, cioè l'EBITDA, l'EBITDA sarebbe Learning Before Interest Tax and Depreciation and Ammortization, cioè il guadagno prima di pagare gli interessi, cioè gli oneri finanziari, le taxation, cioè le tasse, depreciation and ammortizzation, cioè gli ammortamenti, quindi il MOL che sono i ROM meno i COM in sostanza, della fresh è stato di 500, i debiti commerciali sono aumentati di 300, vedete che ho cominciato a riportare l'informazione, quindi MOL uguale a 500, variazione dei debiti uguale a più 300, i crediti commerciali sono invece diminuiti di 200, quindi DELTA crediti uguale a meno 200. Calcolare le entrate prodotte dai ricavi operativi monetari, cioè le entrate uguale a punto di domanda, sapendo che le uscite generate dai costi operativi monetari, cioè le uscite sono state di 6.000. In questa situazione ci appoggeremo ancora alle nostre tre formule, cioè il MOL sono i ROM meno i COM, le entrate sono i ROM meno la variazione dei crediti e le uscite sono i COM meno la variazione dei debiti. Cerchiamo di individuare quello che ci serve a noi, cioè le entrate, e le entrate sono praticamente i ROM meno la variazione dei crediti, quindi sembrerebbe che praticamente ci servono i ROM, visto che la variazione dei crediti ce l'abbiamo. Allora, quindi per ricavare i ROM che cosa facciamo? Quindi dobbiamo ancora rifarci alla prima equazione dove i MOL sono uguali ai ROM meno i COM. Nella prima equazione conosciamo i MOL, che vi ho segnato in verde, ma non conosciamo i COM. Se andiamo a prendere l'ultima equazione, cioè la terza, vediamo che conosciamo due elementi su tre. Quindi in sostanza per ricavare i COM dalla terza equazione dovremmo fare le uscite e poi sposto la variazione dei debiti da destra a sinistra, quindi più la variazione dei debiti. Ci ricaviamo i COM dalla terza, la inseriamo nella prima e quindi ci ricaviamo i ROM e poi la inseriamo nella seconda e quindi ci ricaviamo le entrate. Quindi eccoci qua, partiamo dalla terza equazione in cui cerchiamo di ricavare i COM. I COM sono le uscite più la variazione dei debiti, che è quindi sposto a sinistra con segno positivo. Quindi uscite sono di 6.000 più la variazione dei debiti, quindi è positiva, quindi lo metto con più 300 e arriviamo a 6.300 di COM. Adesso vado nella prima equazione per ricavare i ROM. Quindi i ROM sono i MOL che lascio a sinistra più i COM e quindi logicamente il MOL è di 500, ce l'ho già tra i dati, più i COM che sono di 6.300 che ho ricavato precedentemente e quindi arrivo ai ROM che sono di 6.800. Adesso vado nell'ultima equazione dove tento quindi di ricavare le entrate, che sono appunto i ROM meno la variazione dei crediti, quindi i ROM li ho appena ricavati precedentemente che sono di 6.800 meno la variazione dei crediti. La variazione dei crediti era negativa, era di meno 200, quindi meno meno 200, quindi sarebbe più 200, quindi 6.800 più 200 e arriviamo a 7.000 di entrate e quindi abbiamo risolto il nostro esercizio. Prendiamo l'esercizio successivo, calcolare i flussi di cassa prodotti dalla gestione caratteristica della super SPA note le seguenti informazioni, quindi abbiamo il MOL che sarebbe l'EBITDA, quindi Learning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, però abbiamo un MOL netto imposte. Il MOL netto imposte, vi ricordo, che sarebbe il MOL che moltiplica 1-TC e quindi noi abbiamo già il MOL che moltiplica 1-TC che è di 2.800. L'aliquota d'imposta è del 40%, quindi TC è uguale al 40%, gli ammortamenti sono di 1.500, quindi ammortamenti 1.500, variazione del capitale circolante netto operativo è di più 600. Benissimo, quindi flussi di cassa della gestione caratteristica, abbiamo detto che sono l'FCCNO, quindi il flusso di capitale circolante netto operativo, meno la variazione del capitale circolante netto operativo. L'FCCNO posso calcolarlo con l'aliquota fiscale sostanzialmente in due modi. O faccio MOL che moltiplica 1-TC che sarebbe il MOL netto più TC per ammortamento che sarebbe lo scudo fiscale sull'ammortamento, oppure faccio ROIL che moltiplica 1-TC, quindi reddito operativo netto sarebbe, più l'ammortamento. In questo caso, avendo già il MOL netto, cioè MOL per 1-TC, mi conviene quindi usare la seconda formula, quindi abbiamo MOL che moltiplica 1-TC che abbiamo, che è di praticamente 2.800, più TC per ammortamento, quindi più TC che è 0.4 per l'ammortamento che è di 1.500, meno la variazione del capitale circolante netto operativo, quindi meno 600, e quindi arriviamo a 2.800 che sarebbe appunto il flusso di cassa della gestione caratteristica. Passiamo quindi all'esercizio successivo, quindi calcolare il MOL netto imposte, quindi MOL che moltiplica 1-TC, relativo ad un investimento che dovrà essere effettuato dalla skin SPA nell'anno N, sapendo che sono previsti per l'investimento FCU per 3.000. I flussi di cassa dall'area investimenti sono stati di 5.000, mentre quelli prodotti dai disinvestimenti sono stati di 1.000. Il capitale circolante netto operativo relativo all'investimento è diminuito di 200, l'alicota fiscale è del 40%, l'ammortamento dell'investimento è 1.000. Allora, cominciamo a riportare i dati. Quello che noi dobbiamo calcolare è il MOL che moltiplica 1-TC, quindi lo mettiamo come punto di domanda. Gli FCU sono i flussi di cassa di tipo unlevered, che sono appunto di 3.000. Flussi di cassa degli investimenti sono di 5.000. Flussi di cassa dei disinvestimenti sono di 1.000. variazione del capitale circolante netto operativo è di meno 200, alicota fiscale quindi TC 40%, ammortamento 1.000. Adesso cerchiamo di riorganizzare questi dati all'interno di uno schema che ci permetta di capire come calcolare questo MOL netto imposte, quindi tutte le relazioni che intercorrono fra le varie formule. Allora, prima di tutto ricordiamo la definizione di FCU. Cosa sono i flussi di cassa unlevered? Sono i flussi di cassa prodotti dalla gestione operativa dell'impresa. Sostanzialmente si scompongono in due parti. I flussi di cassa della gestione caratteristica, di cui abbiamo visto un paio di esercizi prima, e questi flussi di cassa della gestione caratteristica possono essere calcolati tra i vari modi, come quando abbiamo l'alicota fiscale. Uno dei modi che sicuramente ci interessa di più è MOL netto imposte, cioè MOL che moltiplica 1-TC, più lo scudo fiscale sugli ammortamenti, quindi più TC per ammortamento, meno la variazione del capitale circolante netto operativo. Quindi possiamo considerare i flussi di cassa della gestione caratteristica come i flussi di cassa circolanti dell'impresa, quindi i flussi di cassa legati al breve periodo, quindi al processo di acquisto, produzione e vendita dell'impresa. Poi abbiamo sempre nell'area operativa quei flussi di cassa di medio-lungo termine, quindi quelli collegati alle operazioni di investimento e disinvestimento, cioè all'acquisto di macchinari. Anche qua vi invito, se non riuscite a capire benissimo questa parte, di ritornare sulla parte di teoria. Vi ho lasciato dei video immensi in cui spiego dettagliatamente tutte queste cose, quindi andate pure sul canale YouTube nella playlist finanza e tra i primi video trovate proprio tutto il resoconto dello stato patrimoniale, del conto economico, di come si redige un rendiconto finanziario e di tutta la riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale che vi permette poi di ricavare queste cose qua. Chiaramente i flussi di cassa dell'area investimento e disinvestimento sono positivi per quanto riguarda i disinvestimenti, negativi per quanto riguarda invece gli investimenti che sono dei flussi di cassa di esborso e questi mi danno appunto gli FCU. Ora andando quindi a mettere assieme tutte queste informazioni, quindi vi ho riscritto, quindi l'FCGC che può essere riscritto come mol che moltiplica 1 meno TC più TC per ammortamento meno variazione del capitale circolante netto operativo, più i flussi di cassa dell'area investimento e disinvestimenti, quindi più i disinvestimenti meno gli investimenti, uguale all'FCU. Vedete che tra questi dati l'unico dato che io non conosco è il mol netto e quindi che cosa andiamo a fare? Quindi mol netto più TC per ammortamento, quindi più 0,4 per 1000, meno la variazione di capitale circolante netto operativo, quindi meno meno 200, più i disinvestimenti, quindi più 1000, meno gli investimenti, quindi meno 5000, uguale agli FCU, cioè 3000. Vedete che in questo caso l'unica incognita è il mol netto, quindi semplicemente facendo la somma di tutti questi termini numerici a sinistra dell'uguale che fanno meno 3004, quindi sommati assieme, e spostandolo a destra con segno positivo, quindi facendo 3000 più 3400, arriviamo quindi al nostro mol netto che è di 6400. Ora passiamo all'esercizio successivo, quindi il mol dell'anno N è risultato di 500. 500, quindi mol uguale a 500, ve l'ho riportato qui nei dati. Le entrate generate dai ricavi operativi monetari, quindi che non sono i ricavi operativi monetari, ma sono le entrate generate dai ROM, sono di 3600, vedete che ve li ho riportati anche qua nei dati. La freccetta è un pochino lenta perché i dati caricati sono molti, quindi abituatevi a questa freccetta che si muove un po' lentamente, almeno in questa lezione. I crediti, quindi i crediti commerciali sono diminuiti di 200, quindi variazione dei crediti uguale a meno 200. Calcolare le uscite prodotte dai costi operativi monetari, quindi quello che dobbiamo calcolare sono le uscite, vedete uscite uguale a punto di domanda, sapendo che i debiti da essi generati sono aumentati di 100, quindi variazione dei debiti uguale a più 100. Quindi per risolvere questo esercizio che cosa dobbiamo fare? Ricordiamo sempre le nostre tre formule, quindi mol uguale a ROM meno i COM, entrate sono uguali ai ROM meno la variazione dei crediti, le uscite sono i COM meno la variazione dei debiti. Dobbiamo cercare la nostra incognita, la nostra incognita sono le uscite monetarie, quindi COM meno variazione dei debiti. La variazione dei debiti la conosciamo, quello che ci mancano sono i COM, dove li troviamo i COM? All'interno dell'equazione 1, assieme al mole i ROM. Quindi però chiaramente ci mancherebbero ancora i ROM, dove li ricaviamo i ROM? Dall'equazione 2, quindi entrate uguale a ROM meno variazione dei crediti. A questo punto quindi per ricavare i ROM li lasciamo a destra con segno positivo e spostiamo tutto a sinistra, quindi entrate più la variazione dei crediti, ci ricaviamo i ROM, li inseriamo nella prima equazione, quindi ci ricaviamo i COM e poi inseriamo i COM nell'ultima equazione e quindi ci ricaviamo le uscite. Quindi per risolvere questo esercizio prendiamo la seconda equazione da cui ci ricaviamo i ROM, quindi entrate più la variazione dei crediti. Quindi entrate sono di 3.600, la variazione dei crediti sono di meno 200, quindi 3.600 più meno 200, cioè 3.600 meno 200, arriviamo a 3.400. A questo punto una volta che conosciamo i ricavi operativi monetari, li inseriamo all'interno dell'equazione 1, da cui cerchiamo di ricavare i COM, quindi vedete che se nell'equazione 1 io sposto i COM sul lato sinistro diventano positivi e se sposto il MOL sul lato destro diventa negativo, quindi ROM meno MOL uguale a COM, il ROM è di 3.400 perché l'ho calcolato nell'equazione precedente, meno il MOL, quindi meno il margine operativo lordo, cioè meno 500, è uguale a 2.900. A questo punto conosciamo i COM, cioè i costi operativi monetari, li inseriamo all'interno dell'ultima equazione per ricavare appunto le uscite, cioè l'incognita che ci interessa trovare a noi. Quindi sono i COM meno la variazione dei debiti, ultima equazione, e a questo punto quindi abbiamo 2.900 che sono i costi operativi monetari, meno 100, cioè meno la variazione dei debiti, la variazione dei debiti era positiva, quindi meno più 100, quindi meno 100, 2.900 meno 100 e arriviamo a 2.800. E così abbiamo calcolato le nostre uscite. Passiamo quindi al prossimo esercizio, calcolare i flussi di cassa prodotti dalla gestione caratteristica, quindi FCGC, della super SPA. Note le seguenti informazioni, qui abbiamo il MOL netto imposte, che sarebbe il MOL che moltiplica 1 meno TC, che è di 2.800. L'aliquota d'imposta è del 40%, quindi TC uguale a 40%, gli ammortamenti sono di 1.500, quindi ammortamenti uguali a 1.500, variazione, anzi qui dice diminuzione del capitale circolante netto operativo, quindi noi possiamo scrivere variazione del capitale circolante netto operativo che è meno 600 perché c'è appunto una diminuzione. Calcolare i flussi di cassa della gestione caratteristica. Allora anche qui ricordiamo che per calcolare i flussi di cassa della gestione caratteristica possiamo prendere il MOL netto imposte, quindi MOL che moltiplica 1 meno TC, più lo scudo fiscale sui ammortamenti, quindi più TC per ammortamenti, meno la variazione del capitale circolante netto operativo. Quindi MOL che moltiplica 1 meno TC ce l'abbiamo già, se non ce l'avessimo avremmo dovuto scrivere MOL che moltiplica 1 meno 0,4, però siccome ci dava già nel testo che il MOL era netto, allora mettiamo questi 2.800 inclusi dell'1 meno TC, quindi 2.800 più scudo fiscale sugli ammortamenti, quindi più TC per ammortamento, quindi più 0,4 per 1.500 che sono gli ammortamenti, meno la variazione del capitale circolante netto operativo, quindi meno meno 600 e quindi sarebbe più 600 e quindi andando a fare i conti 2.800 più 600 che sarebbero i 1.500 per lo 0,4 più 600 che sarebbero i meno meno 600 arriviamo a 4.000 di flusso di cassa dalla gestione caratteristica. Vediamo il prossimo esercizio, calcolare i flussi di cassa prodotti dalla gestione caratteristica della free SPA note le seguenti informazioni, quindi MOL netto imposte, quindi vedete che vi dà già MOL che moltiplica 1 meno TC che è di 5.000, primo dato che vi ho segnato, aliquota d'imposta del 40%, quindi TC uguale a 40%, ammortamenti 3.500, quindi ammortamenti 3.500, aumento del capitale circolante netto operativo, quindi delta CCNO uguale a più 400, perfetto, quindi calcolare il flusso di cassa della gestione caratteristica. Allora, c'ho qualcuno che mi guarda la finestra, allora, quindi flusso di cassa della gestione caratteristica, quindi solita procedura, quindi MOL che moltiplica 1 meno TC, quindi in questo caso quando cominciamo a scrivere chiaramente MOL per 1 meno TC è già 5.000, quindi non dobbiamo scrivere per 1 meno 0.4, più TC per ammortamento, quindi più 0.4 per i 3.500, meno la variazione del capitale circolante netto operativo, quindi meno 400 e arriviamo ai nostri 6.000, che sono il flusso di cassa della gestione caratteristica. Altro esercizio, calcolare i flussi di cassa prodotti dalla gestione caratteristica della free, note le seguenti informazioni, quindi abbiamo il MOL netto imposte, ok no, questo qui è esattamente l'esercizio di prima, quindi non ve lo ripropongo neanche, vediamo invece questo esercizio un pochino più tosto, calcolare gli FCU, cioè i flussi di cassa unlevered prodotti dalla N, cioè prodotti nell'anno N dalla 5 SPA, sapendo che, allora qui comincio a elencare un pochino di dati, quindi reddito netto d'esercizio 500, vi ho scritto RE, reddito d'esercizio uguale a 500, ammortamenti uguale a 300, vedete il secondo dato che vi ho scritto ammortamenti uguali a 300, aumento del capitale circolante netto operativo, quindi delta CCNO uguale a più 80, proventi finanziari 5, vedete che ve li ho scritti sotto il delta CCNO, proventi finanziari 5, oneri finanziari 25, quindi oneri finanziari 25, acquisto di immobilizzazioni 600, eccole qui, acquisto immobilizzazioni, di cui da pagare ancora 100, quindi fate una piccola riflessione, se io ho acquistato un oggetto di 600 e devo ancora pagarne 100, vuol dire che la mia uscita monetaria per quell'oggetto ammonterà a 500. Prezzo di vendita dalle immobilizzazioni 50, minus valenza 10. Quindi ecco anche qui mi raccomando andate a vedervi bene la teoria che è descritta in tutti i video che io vi ho proposto completamente a livello gratuito su YouTube perché effettivamente quando entriamo in queste situazioni ci sono tanti piccoli tecnicismi che non posso continuare a ripetervi, cioè io adesso sto commentando i vecchi temi d'esame, però vi riproporrò anche gli schemi generali da seguire, però per una migliore comprensione dovete andare a guardarvi dall'A alla Z come andare a approcciarvi dal punto di vista logico a quegli esercizi. Quindi se l'avete già fatto qui non dovreste riscontrare grossissimi problemi, se non l'avete fatto interrompetevi e andate a guardarvi con la sezione altrimenti diventano tante nozioni così che uno non sa come applicare. Comunque allora cominciamo dallo schema generale FCU. Gli FCU sono composti da due componenti, cioè i flussi di cassa della gestione caratteristica che sono i flussi di cassa operativi a breve termine, chiamiamo così, quindi quelli collegati al ciclo produzione acquisto vendita e i flussi di cassa degli investimenti disinvestimenti, quindi quelli a più a lungo termine. Allora per calcolare l'FCGC ci sono sostanzialmente tre modi, prima ne abbiamo visti due, allora il primo è se non abbiamo l'aliquota fiscale, quindi negli esercizi in cui non abbiamo l'aliquota useremo queste formule. Una è mol meno imposte meno la variazione del capitale circolante netto operativo. Un'altra è il ρ più gli ammortamenti e ricordate che il ρ più gli ammortamenti in sostanza è il mol, quindi è come dire ancora ρ più ammortamenti, cioè mol meno imposte meno variazione del capitale circolante netto operativo. Un altro modo che è quello che parte dal basso, cioè dall'ultimo punto del conto economico è il seguente, quindi prendo il reddito d'esercizio, risalgo, quindi gli tolgo le minusvalenze o gli aggiungo le minusvalenze, risalgo ancora, quindi gli aggiungo gli oneri finanziari e gli tolgo i proventi finanziari, risalgo ancora, cioè gli aggiungo gli ammortamenti e poi tolgo la variazione del capitale circolante netto operativo, anche qua vedere bene la teoria. Quindi questa è la componente diciamo quella di breve termine, quindi per il ciclo acquisto, produzione e vendita del tipo operativo. L'altra componente è quello di medio-lungo termine, quindi i flussi di cassa collegati agli investimenti e ai disinvestimenti. Chiaramente sottraggo i flussi di cassa dagli investimenti e aggiungo i flussi di cassa dei disinvestimenti. Attenzione, sono flussi di cassa, quindi sono flussi di tipo monetario. Chiaramente nei flussi di tipo monetario devo andare a considerare, nel caso dei disinvestimenti, il prezzo a cui ho ceduto l'oggetto e ricordiamo che il prezzo a cui ho ceduto l'oggetto sarebbe il costo storico meno il fondo ammortamento, lo vedremo comunque più dettagliatamente nei prossimi esercizi, che mi dà il valore contabile e dal valore contabile aggiungo, tolgo le plusvalenze valenze o tolgo le minusvalenze. Comunque adesso cerchiamo di capire quello che possediamo noi, quindi FCGC. Allora, quindi sicuramente ho il reddito d'esercizio, le plusvalenze, le minusvalenze, gli oneri, i proventi, gli ammortamenti e la variazione di CCNO. Quindi sicuramente l'ultimo calcolo, reddito d'esercizio, meno plusvalenze o più minusvalenze, più oneri finanziari, meno proventi, più ammortamenti, meno delta CCNO, mi darà il flusso di cassa della gestione caratteristica. Quindi andando a inserire al posto del reddito d'esercizio 500, più le minusvalenze, quindi più 10, più la differenza tra gli oneri finanziari e i proventi finanziari, quindi più 25, meno 5, più gli ammortamenti che sono di 300, meno la variazione del capitale circolante netto operativo, cioè meno 80 e arriviamo a 750 di flusso di cassa della gestione caratteristica. Adesso passiamo agli investimenti e disinvestimenti, quindi meno gli investimenti. Chiaramente dobbiamo considerare all'interno degli investimenti non il valore dell'oggetto acquistato, ma il valore dell'uscita monetaria effettivamente realizzata in quel periodo per l'acquisto di quel macchinario. Qui parla di investimento di 600, acquisto impianti, acquisto di diciamo qualcosa di produttivo di 600, di cui 100 ancora da pagare. Quindi se io ho acquistato un oggetto che mi costa 600, ma devo ancora pagarne 100, vuol dire che di quell'oggetto a livello monetario sono usciti 500, quindi meno 500 sarebbe l'uscita da investimento, che è negativa perché è un flusso di cassa negativo. Per quanto riguarda i disinvestimenti, allora, chiaramente noi dobbiamo ricordarci che quando parliamo di disinvestimenti dobbiamo andare a considerare il prezzo di vendita, cioè è un'entrata del fatto che io ho venduto un oggetto e quindi mi sono entrati dei soldi, quindi dei soldi da disinvestimento. Ora, quello che conta in questa sezione è il prezzo di vendita. Qui non ho aliquota finanziaria, non ho aliquota fiscale, quindi non considero la componente di imposta sulle plusvalenze o le minusvalenze perché le ho già considerate all'interno del flusso di cassa della gestione caratteristica. Comunque mi interessa il prezzo di vendita dell'oggetto. Ora, il prezzo di vendita sarebbe il valore contabile più le plusvalenze o meno le minusvalenze e il valore contabile sarebbe il costo storico meno il fondo ammortamento più le plus o meno le minus. Nell'esercizio che ci è appena stato proposto. Noi abbiamo già il prezzo di vendita, quindi è inutile andare a ricavarcelo dal costo storico. Abbiamo già che abbiamo venduto un oggetto a 50, quindi 50 è il prezzo di vendita di quell'oggetto ed è quindi il flusso di cassa derivante da quell'oggetto lì. Quindi complessivamente dagli investimenti e dai disinvestimenti cos'è successo? Mi sono usciti 500 dagli investimenti, 600 meno 100, quindi meno 500 dagli investimenti, più 50 dai disinvestimenti perché sono già il prezzo di vendita, quindi complessivamente il flusso di cassa dall'area investimenti e disinvestimenti è stato di meno 450. Quindi dai 750 che sono i flussi di cassa della gestione caratteristica, quelli di a breve, a cui vado a togliere i 450 che mi sono usciti complessivamente nell'area investimento e disinvestimento, ci restano finalmente dei flussi di cassa all'Evered di 300. Bene, grazie per l'attenzione, per questa prima lezione sul rendiconto finanziario è tutto, grazie per l'attenzione di Andrea il matematico, ci vediamo alla prossima lezione ancora sul rendiconto finanziario.